very nice angela dove ci troviamo cosa stiamo facendo e la località a raizina raizina ceppino questo gruppo da dove arriva angela arriva dagli stati uniti stati uniti dove tucson il tuo nome che la comare sta mangiando prima d'oro nome dell'italiano arper arper se ma cacciamo un nome che sarà morisci un nome nome sta riposando che stai al numero uno è figliolo come dalle russo come è il nome adelina adelina è davide davide l'atres in poscaro perane